Dov'è Dio se nel mondo c'è il male, se ci sono uomini affamati, assettati, senza tetto, rifugiati? E la risposta di Gesù è questa, Dio è il loro. Un'altra cosa che è stato stricato di questo World Youth Day è che i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di sentire direttamente da persone perseguitate di cristiani. Il bishop di Urbale, Iraq, è venuto a il podium e instantanemente, ogni ogni persona in il stadio stavano. Ma anche se non è sentito, 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 non è sentito. In that moment, I knew that those people that were standing there felt that passion to show them that we will stand together. It's great to have all of these young people there ready to listen to the suffering people around the world and to our story. I believe that there will be a change. Lord, make me an instrument of your mercy. Once we admit we need mercy, we get it. We praise God for it. And then we become an instrument of that mercy to others. If you walk around and you see different countries screaming on the top of their lungs, they're excited. But it also could be that they don't have the freedom in their own country to do this. And so it is a privilege to be here. One of the things our world is hungry for is an ability to be forgiven and to forgive. Mercy is right on point with the deepest hunger of the cultures that we inhabit. La vida della croce è l'unica che sconfige il peccato, il male e la morte. Chi la percorre con generosità e con fede dona speranza al futuro e all'umanità. La vida della croce è l'unica che la percorre con generosità e con fede, dona speranza al futuro e all'umanità.